Allora, adesso invece passiamo alla sezione cinema e teatro e prima di conoscere il nostro premio 2014 vediamo insieme questo video La sezione cinema e teatro è un attore, un regista del canale cinematografico con il suo stile inconfundibile e la notevole capacità artistica e ha conseguito successi eccellenti che l'hanno portato alle vette della notarietà in Italia e nel resto del mondo Ian Pat, il famoso section and director of theater and film il premio di sezione giovani cinema e teatro nel passato 2014 Anche va, poi diretti la nativa, vai, vai Va, applausi i parenti Grazie mille, grazie mille, grazie mille Grazie mille, grazie mille Grazie mille Il giovane molto di ragazze della televisione italiana direi molto che rovinarei Flavio, io qui lido sulla scheda italo-francese in realtà sei andato a Parigi Ma mia madre, mia madre è francese, mio papà è francese, mio papà è francese Questa è stata andata a Parigi, ho fatto avanti e indietro tra i due paesi Così ho trovato tutta la tua vita in braccia, però poi tutto il resto dei miei studi è stato venuto in Italia Pensi non c'è di parlare in italiano? Una bella domanda, allora, i bilingue in generale poi riscoprono queste cose Il pensiero non è una lingua, cioè gli si dà una forma successivamente nel momento in cui si parla Però quando avviene dentro la nostra testa, è un bingo di lingua, non è né in italiano che faccio il pensiero E poi dopo la forma che prende, è bene, il conto e quello è il conteggio e lo faccio il francese Grazie